Eccomi qui, anch'io, a parlare di Caravaggio. Ed è così difficile, lo faccio con molta paura. Quanti hanno parlato, parlano di Caravaggio? Difficile dire qualcosa di nuovo? Difficile confrontarsi con un personaggio che ha inventato in pittura tutti i toni della modernità? L'orrore, la passione, la pietà? Ci proverò, ma ci proverò parlando dei dipinti che non sono arrivati alla mostra di Milano. Sono ancora nella Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi a Roma, il primo ciclo pubblico affrontato da Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Parleremo quindi della vocazione di San Matteo, del martirio di San Matteo e delle due versioni di San Matteo e l'Angelo. E attraverso questi dipinti potremo parlare della straordinaria vicenda umana ed artistica di Caravaggio. Su Caravaggio è stato veramente detto un po' di tutto. Io ho cercato in maniera un po', se volete, non vile, ma leggera, di liberarmi dal legame più stretto con la mostra di Palazzo Reale che sta registrando tanti ingressi e di proporvi una riflessione su Caravaggio, il Caravaggio che resta a Roma, che non può essere portato via da Roma e che si trova nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Partiremo quindi dai tre dipinti caravaggeschi della chiesa di San Luigi dei Francesi, poi però, come vedremo, sarà anche l'occasione per proporre delle riflessioni che se non sono inedite, quantomeno sono molto personali. Anzi, ho anche un po' deciso di dare a questo incontro, proprio perché non vuole essere la solita zuppa ricotta sul pittore, un taglio un po' radical che spero non sconvolga nessuno, ma io trovo che sia un momento in cui la cultura deve avere coraggio, come hanno avuto coraggio quelli delle avanguardie russe degli inizi del Novecento. Chi si trova in queste occasioni non deve pensare solo che la cultura siano due ore da passare tranquillamente guardando delle belle figure, ma la cultura è un'autentica necessità e se io sono qui, se conosco molti di voi, se girello anche per associazioni, è perché ci credo profondamente, perché non voglio che il mondo che verrà dopo di noi scambi la cultura per mercato, scambi la cultura per propaganda, è una cosa che mi fa venire i brividi al solo pensiero e sicuramente questi brividi li avrebbe provati anche Caravaggio che certamente nel suo tempo ha sentito la difficoltà di parlare agli altri, di rappresentare attraverso la pittura una situazione esistenziale molto molto forte. Comincio con il ritratto più celebre di Caravaggio, fatto da Ottavio Leoni dopo la morte di Caravaggio che è conservato alla biblioteca maruccelliana. In realtà una buona parte della fama di Caravaggio, soprattutto direi presso la gente più semplice, quella che legge quei bei romanzoni da 400 pagine e che ama nella cultura la dimensione del sogno, la proiezione del proprio inconscio, eccetera. Per loro Caravaggio è l'assassinio, quindi una specie di storia del crimine che entra clamorosamente nella storia dell'arte. Questa visione di Caravaggio assassino piace moltissimo a proposito di bullismo, piace perché siamo stufi di artisti come Giotto, come Masaccio, artisti tutti per benino, brave artigiani che hanno condotto delle vite regolari, tranquille. Anche se in realtà non vorremmo mai avere un Caravaggio come vicino di casa e tanto meno un Caravaggio come figlio, però ci piace pensare che al genio sia collegata un'estrema libertà e addirittura aggressività. Fra l'altro Palazzo Reale non so se per un progetto del direttore Domenico Piraina o per casualità, ma forse qualche volta la casualità governa il meglio degli uomini, in questo momento a Palazzo Reale ci sono due storie di grandi trasgressivi, uno appunto è Caravaggio e l'altro è Toulouse-Lautrec. Sono messi vicini, ma io direi anche lì di farci un pensiero. Per Toulouse-Lautrec il male e il vizio vanno capiti, fanno parte della vita e siccome Toulouse non ha metafisica, cioè al di là non c'è nulla, non c'è un dio per Toulouse-Lautrec, c'è lo scorrere della vita tra cabaret, donne e postriboli, in Toulouse-Lautrec c'è la rappresentazione del vizio con la tenerezza e la commozione di chi sa che tutto questo finirà. Il Caravaggio invece no, la situazione è più complessa, il vizio è il male e il male è in perenne combattimento, in un'autentica lotta con il bene. Sono due modi di concepire il male, appunto il vizio, molto distanti naturalmente tra loro, anche perché la Parigi di fine Ottocento non è la Roma del Seicento, ma questa vicinanza secondo me porta a delle riflessioni interessanti, anche proprio come vi dicevo sull'uso dell'immagine per persuadere, per convincere, per entrare nella emotività di chi guarda. Vi dicevo, Caravaggio assassino, su di lui quindi hanno scritto romanzieri, hanno fatto film e lo vedremo. Le descrizioni che ci arrivano dal suo tempo, che sono però, attenzione, descrizioni postume, quindi di artisti che raccontano come fosse Caravaggio dopo la sua morte, una descrizione del 1672 dice «Egli era di colore fosco e aveva foschi gli occhi, nere le ciglia e i ticapelli e tale riuscì ancora naturalmente nel suo dipingere». Oppure un altro scrive «fu di statura picciolo e brutto di volto». In versi «di fantastico umor certo bizzarro, pallido in viso e di capillatura, assai grande, arricciato, gli occhi vivaci sì, ma incaverniti». Ci sono tutte le componenti, tutti gli ingredienti per creare un eroe romantico. La fama di Caravaggio, e questo è interessante, è sicuramente ben presente, diffusa nel suo secolo, tanto che come vedremo, e ci sarà una mostra alle Gallerie d'Italia, i caravaggeschi sono numerosissimi. Poi con il XVIII secolo le sue azioni cadono a picco. Caravaggio non piace, all'epoca di Boucher, di Fragonard, di Tiepolo, cosa farsene di questi fondi neri sgradevoli e di queste facce plebee, prive di eleganza. Poi nell'Ottocento, nel XIX secolo, alcuni primi spiragli di comprensione, ma Caravaggio viene nel XIX secolo visto all'interno di una pleiade di artisti spagnoli e questa idea che Caravaggio fosse spagnolo è molto interessante, perché in realtà la Milano in cui nasce Caravaggio nel 1571 è spagnola, è messa in una pleiade che comprende Velázquez, Murillo, De Ribera, insomma uno dei tanti. Poi Caravaggio è la grande scoperta del romanticismo e soprattutto del Novecento. I pittori belli e maledetti si riflettono nell'immagine di Caravaggio, che si fa autonoma dal suo catalogo, dalle sue opere e diventa il pittore geniale che passa da una meretrice a un duello, a una lite con un'oste e che governato dalla febbre e della malaria in qualunque momento può perdere il lume della ragione. Comincio, vi ho detto che sarà una lezione un po' radical, ma l'argomento si presta, comincio facendovi vedere la reincarnazione, secondo me, odierna, di un mito caravaggesco filtrato attraverso i ragazzi di vita pasoliniani, che attenzione avevano ben altro spessore e che arriva alla fiction su Burra di oggi. Io tra l'altro ho fatto proprio questa considerazione prendendo la metropolitana a Duomo e andando alla mostra di Caravaggio e ho visto l'intera stazione della metropolitana tappezzata da manifesti come questi, dove si prende l'eroe cattivo, ma più che l'eroe direi proprio il cattivo, e lo si aureola di tutti gli attributi della tradizione cattolica. Quindi vedete appunto il libanese con i gigli e il nimbo intorno alla testa e così appunto non manca nulla, c'è anche l'omosessuale maligno che sembra appunto uscito veramente da una interpretazione pop, un'interpretazione plebea di Caravaggio. Anche questo un tema su cui riflettere, badate, io vi do degli spunti, poi non ho alcuna pretesa di potervi dire delle verità assolute naturalmente, ma una Roma rovesciata, cieli tempestosi, l'immancabile chiodo nero, la donna al limite della prostituzione, sono tutti appunto temi, modelli, archetipi come si chiamano, che passano evidentemente attraverso un immaginario molto compatto e giungono fino ai nostri giorni, anche se probabilmente l'80% o forse di più dei fruitori di Suburra, non sa l'origine degli stereotipi a cui si trova di fronte. Tornando indietro, Caravaggio è stato protagonista di tante avventure cinematografiche, di solito rappresentato da un bellone con sguardo fosco, dove si mescolano Caravaggio e Byron sostanzialmente. E ne nasce questo modello artistico e soprattutto erotico maschile molto forte. Tutti abbiamo in mente lo straordinario Gian Maria Volontè, che io ne ho rivisto dei pezzi, non lo ricordavo più nella versione televisiva, era perennemente sudato quando faceva Caravaggio, quasi appunto che il sudore dimostrasse questa terribile confusione interna e questa lotta tra il mondo interiore e il mondo esteriore. Poi c'è stato un film di un regista trasgressivo che si chiamava Derek Jarman, di cui qui vedete il manifesto, che sottolinea invece l'importanza degli amori omoerotici di Caravaggio, sia per l'elemento contro lo status dell'amore omosessuale, sia per la sua componente più chiaramente sensoriale ed erotica. Ed è questo uno dei fotogrammi di questo film di Jarman, è incredibile come la filmografia scorra velocemente, quindi qui pensate, sembra che sia un film vecchissimo, anche perché lui in maniera un po' ingenua metteva in posa, vedete, le figure come alcune figure dei quadri di Caravaggio e così vedete questa comparsa che spalanca la bocca con un'espressione che ritroveremo nei quadri caravaggeschi. D'altra parte i carnefici di Caravaggio, nei quadri di Caravaggio, da soli meriterebbero una galleria, Caravaggio ha saputo rappresentare il male attraverso questi volti che esprimono un profondo cinismo. Io credo che ci sia proprio in Caravaggio la differenza, ed ecco perché Suburra è un Caravaggio ribaltato, una profonda differenza tra il male di chi crede comunque nel bene e precipita nel male e il male cinico di questi personaggi che sembrano appunto aver perduto qualunque fiducia nella vita. Adesso però facciamo finito questo cappello che è la parte se volete più di meditazione su Caravaggio e il presente e io non finirò comunque qui questo argomento che mi sembra veramente importante, perché quando vedo le code davanti a Palazzo Reale impulsivamente mi pongo questa domanda, ma perché Caravaggio? Solo perché c'è la pubblicità sui tram, solo perché è un nome che tutti hanno sentito, solo perché bisogna controllare quante opere sono arrivate? E appunto mi pongo questa domanda e delle volte vorrei che il pubblico che di solito ascolta ma è piuttosto schivo e remitente a rispondere, mi rispondesse perché Caravaggio? Quindi a voi anche in un compito non scritto di rispondere a questa domanda, che generazioni parla Caravaggio? Visto appunto che si parlava del bullismo e quindi di una sorta di elogio della violenza o almeno di come la violenza possa spesso sembrare il partito vincente. Ci ricaliamo nella storia, ci ricaliamo nella Roma della fine del Cinquecento Romero, quando Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Michelangelo Merisi era nato a Milano nel 1571 ma la sua famiglia era di Caravaggio in provincia di Bergamo, arriva a Roma. Nato Roberto Longhi, di cui vi leggerò dei passi, straordinario docente di storia dell'arte, senza di lui io credo che la storia dell'arte sarebbe rimasta una delle passioni, dei pesce mignon, delle signore che non avendo niente da fare vanno a sentire ogni tanto qualche conferenza. Roberto Longhi prende in mano una disciplina che sta languendo e scrive dei libri con un italiano di invenzione, pieno di vita, capace di tour di frase paragonabile a quella di Gadda e dopo la guerra in una Milano bombardata, in una Milano fumante di rovine incontra tra virgolette l'uomo del destino che è Enrico Mattei. Mattei sta combattendo per far di Milano non solo la capitale dei Danè ma anche una capitale culturale e ha bisogno di mostre che tirino sul morale di Milano perché Milano è senza casa e riesce ad inventare una stagione di mostre irripetibile per cui noi praticamente che ci occupiamo di storia dell'arte teniamo sul comodino i cataloghi di quelle mostre. Sapete che arriva Guernica di Picasso, sapete che si fa la mostra sull'arte lombarda dei Visconti e gli Sforzi e soprattutto nel 1951 Longhi riesce con i soldi di Mattei e con l'avvallo di Mattei ad organizzare questa mostra su Caravaggio chiamandolo il Gran Lombardo, un artista nato in Lombardia, all'epoca non si sapeva ancora Milano, il documento che attesta la nascita milanese è stato trovato molto più tardi. L'idea è quella che uno dei protagonisti dell'arte del 600 non sia nato a Roma dove ha lavorato ma in una Lombardia che terra incognita per Vasari senza nessuna tradizione di storia dell'arte sembrava veramente fino a quel momento una landa selvaggia, una contrada poco fatta per l'arte e per gli artisti. Fatta la mostra del 1951 nasce la stella Caravaggio e Caravaggio viene disputato tra i due grandi blocchi politici dell'epoca, la democrazia cristiana e il partito comunista. Ci sembrerà una follia ma secondo me anche lì se ci pensiamo questo è molto interessante ed è il nostro passato prossimo diciamo perché da una parte Testori rivendica e sono gli anni che vedranno Papa Giovanni al cattolicesimo Lombardo e penso a Manzoni l'idea degli umili protagonisti dell'arte, addirittura si citerà proprio Manzoni nel catalogo della mostra, quindi sono i cattolici che guardano alla povera gente, quella che non ha casa, quella che ha le piaghe ai piedi e dall'altra parte la versione laica e sociale dell'apparizione incredibile dei poveri nei quadri caravaggeschi che viene sostenuta da Guttuso e tra gli altri e dal pur anticonformista Pasolini. Però è importante che su Caravaggio già nel 1951 si aprisse un bivio e oggi il bivio che si apre è se volete molto più basso perché purtroppo Caravaggio oggi è soprattutto mercato, quindi come sottolinea Tommaso Montanari ogni tanto qualcuno da qualche parte del mondo trova un Caravaggio e cerca di farlo autenticare dalle autorità che presiedono alla autentica. Però io credo che sia sempre importante rendere omaggio a chi ci ha guidato sulla strada dell'interpretazione e su questo argomento torneremo. Il nostro gran Lombardo, quindi Michelangelo, pare già messosi nei guai con la polizia, lascia ventenne Milano dove è stato allievo del Peterzano e arriva a Roma. Il problema, diciamolo pure in maniera caravaggesca e plebea, la fregatura per Roberto Longhi è che è vero che Caravaggio nasce in Lombardia, ma in Lombardia non dipinge niente e quindi hai un bel andare alla Certosa di Garegnano dove dipinge il Peterzano a cercare dove forse Caravaggio avrebbe messo il suo pennello, ma si tratta di ipotesi, di visioni. In realtà Caravaggio a Milano non dipinge. La canestra di frutta dell'Ambrosiana e la cena in Emmaus che si trova nella Pinacoteca di Brera sono rimaste nelle collezioni milanesi, ma entrambe sono state acquistate quando già Caravaggio era nel centro e nel sud dell'Italia. Quindi diciamo che lo slancio longhiano in qualche modo viene spento da questa assenza di opere originali di Caravaggio in Lombardia. Arriva comunque a Roma, a Roma per quanto ci dicono le fonti dipinge soprattutto Nature morte e anche lì sulle Nature morte di Caravaggio ci sono state delle violente querelle attributive. Caravaggio, non Caravaggio, la fiasca di Forlì, le Nature morte di Harford. sapete che di quel Roberto Longhi che vi citavo è rimasta una allieva che è stata testimone dell'allestimento della mostra del 51, è la grandissima Mina Gregori, che a tutt'oggi è la gran signora di Caravaggio, anche perché presiede la fondazione Longhi ed è lei a dire l'ultima parola su Caravaggio, nonostante che le generazioni si susseguano. Arriva a Roma, dipinge Nature morte di cui a parte la canestra di frutta dell'Ambrosiana sappiamo poco, entra nel giro del Cardinal del Monte, ma soprattutto quello che è importante pensare che è la Roma della controriforma. E questo è un argomento appassionante, paragonabile appunto all'argomento per cui adesso mi sto dando tanto da fare, che è quello della rivoluzione, perché è un momento in cui alle immagini è chiesto di coinvolgere un pubblico interclassista, interclassista e intergenerazionale. La controriforma è, lo sapete, il movimento nato all'interno della Chiesa dopo la lacerazione portata da Martin Lutero nel 1517, tanti anni sono passati quando Caravaggio arriva a Roma, ma la situazione è tutt'altro che tranquilla. Martin Lutero con le immagini aveva tenuto un atteggiamento tiepido, aveva detto per me i cattolici che pregano davanti ai quadri sono un po' degli zulu, però lasciamole lì queste immagini, io preferisco la musica, diceva Martino, la musica dell'organo mi porta più lontano, ma le immagini se non vengono venerati in quanto oggetto possono stare lì, ma l'ala oltransista della riforma, Calvino, brucia tutto, brucia le immagini e dice che le immagini sono la morte della vera religione, perché chi crede veramente in Dio non ha bisogno di bambocci, di belle donne, di bambini, di immagini narrative, arriva a Dio per un dialogo di fede, non un dialogo di sensi. Attenzione a questa dualità perché è essenziale, la Chiesa, Paolo III Farnese, poi Sisto V, i papi della controriforma, si trovano in netta difficoltà, anche perché quella Francia che presiede a San Luigi dei Francesi è in un momento tremendo, la notte di San Bartolomeo, gli ugonotti, cioè i calvinisti che stanno per impossessarsi del potere in Francia e quindi il Papa si trova isolato, immaginatevi, come se presto il trono di San Pietro fosse destinato a crollare. Nasce una strategia delle immagini, io vi parlo della rivoluzione perché è quella che conosco, ma io credo che se si potesse parlare di Napoleone, di Alessandro Magno, ma direi anche qualcosa di più, perché nel caso di Alessandro Magno e Napoleone si tratta di una immaginerie personale, lì si tratta di richiamare i fedeli alla Chiesa che da cristiana è diventata cattolica dopo il Concilio di Trento e a convincerli dell'importanza delle immagini e a Roma si crea una officina dei sensi e delle immagini che oggi vediamo in tutti i nostri itinerari, non possiamo farne a meno, la stessa Chiesa qui di Santa Teresa dove è sistemata la Mediateca è un esempio di questa capillare diffusione delle immagini e di una riflessione sul ruolo dei sensi nel respingere la riforma. Il Papa che sta sul soglio pontificio all'epoca dell'esecuzione della Cappella Contarelli di Caravaggio di cui vi parlerò è questo Clemente VIII Aldobrandini. Sotto il suo pontificato spariscono un po' di persone pericolose, per esempio Giordano Bruno, che viene bruciato in campo dei fiori proprio nel momento in cui Caravaggio finisce l'esecuzione delle opere della Contarelli, in quel 1600, proprio un anno tondo, in cui Roma deve ritrovare il proprio potere con la celebrazione dell'anno santo. Viene bruciato Giordano Bruno con la sua religiosità così interessante, così diversa, che piace tanto ai giovani di oggi, ci sono moltissimi che leggono e si interessano a Giordano Bruno. Viene messo in galera Tommaso Campanella, autore di uno dei saggi utopici, la città del sole, appunto, più straordinari della modernità. Quindi il nostro Papa Clemente VIII deve fare una grande attenzione a che le tarme, i vermi della riforma, non entrino nel nuovo blocco della Chiesa Cattolica. Intanto la Francia, come vi dicevo, è messa male. Caterina De Medici sul trono viene guardata con odio da molti francesi. Ancora oggi molti, secondo me, dei costumi francesi, che ci separano un po' dai nostri vicini d'oltre Alpe, derivano dalla forte componente ugonotta, che in maniera più o meno nascosta è rimasta in Francia. E sono anni decisivi, perché pensate che l'Italia avrebbe potuto sparire, sono anni di un'importanza vitale, proprio per la nostra storia. Comunque, il Papa Clemente VIII riesce a far arrivare a Roma questo Matteo Contarelli francese, il quale dice, no, la Francia sta insieme al Papa. Noi ripudiamo la riforma protestante e per rendere più chiara la prossimità della Francia al Vaticano, Matteo Contarelli finanzia la ristrutturazione di una chiesa, San Luigi, siamo nei pressi di Piazza Navona e la trasforma in una chiesa sontuosa per la nazione francese. Ecco perché San Luigi dei Francesi, di cui qui vedete una stampa, siamo, ripeto, a pochi passi, lo sapete, da Piazza Navona, tant'è che San Luigi dei Francesi ha perennamente una folla di turisti che cercano di vedere, fotografare, eccetera, gli amatissimi Caravaggio. Quindi avete una visione della facciata fatta costruire con i soldi di Matteo Contarelli, il quale dà soldi per la facciata e per la cappella dove lavorerà il nostro Caravaggio. La facciata è una facciata sobria e qui io vi avvio un altro problema perché io credo che veramente il vero senso della cultura non sia dare dei dogmi naturalmente ma sia far riflettere. Allora la chiesa si trova di fronte all'opposizione riformata e una delle domande grosse che ci si pone è ma la ricchezza, la ricchezza della chiesa e la ricchezza dei singoli. Che ruolo hanno nel sociale? Sono legittimi? La chiesa risponde, perché è evidentemente una domanda scottante e credo che lo sarà sempre finché il mondo durerà, con due linee. La linea barocca che è quella dell'ostentazione della ricchezza, per cui si resta sbalorditi e il contadino che arriva a Roma e vede il baldacchino di Bernini. Resta senza fiato. L'altra linea è una linea più adatta al cattolicesimo moderato francese. Progettata dal Della Porta e da Domenico Fontana, la facciata di San Luigi dei francesi vedete, segue uno stile estremamente sobrio, una di quelle facciate davanti a cui si passa quasi senza accorgersene. L'idea è abbiamo i soldi ma non li facciamo vedere troppo. L'interno però non dipende tutto da Matteo Contarelli, naturalmente un uomo non basta, una generazione non basta per fare una cosa come questa, fine 600, 700, pale d'altare che arrivano, pale che se ne vanno. Quindi quella che vediamo adesso non è certo la San Luigi dei francesi dove lavora Caravaggio, dove porta le sue opere Caravaggio. Però per San Luigi dei francesi è fondamentale questo signore che vedete qui, che si chiamava in realtà Matteo Quintrell e con una prassi che usiamo anche oggi per i ragazzi neri che arrivano in città, il nome viene italianizzato e quindi come chiamiamo un signore magari che viene dal centro Africa, Luigi o Pepino, allo stesso modo Matteo Quintrell diventa Matteo Contarelli. Uomo sicuramente colto, molto abile nel gestire la propria cultura e la propria abilità diplomatica. Mi sembra un personaggio molto interessante perché vent'anni prima della sua morte morirà nel 1585 fa debiti e quindi alla sua morte poi ci saranno accertate delle malversazioni per riuscire ad avere una tomba come si deve. Quindi non come faremmo noi per goderci per godercela da qualche parte, ma perché resti la sua memoria collegata alla chiesa di cui si è occupato. E quindi per vent'anni si occupa della costruzione di questa cappella e lascia precise indicazioni su come dovrà essere fatta. muore nel 1585, aveva indicato come primo pittore della cappella un bresciano, che oggi nessuno si ricorda più ma tempo verrà anche per lui, che si chiama Gerolamo Muzziano. Gerolamo Muzziano fa la prima parte, una pala d'altare. con gli studi che sono stati fatti di recente dal professor De Marchi, questa pala d'altare del Muzziano è stata trasportata poi in Santa Maria in Araceli. Intanto Quentrell muore, gli eredi non hanno tanta voglia, comprensibilmente, di spendere soldi per una volontà testamentaria che toglieva soldi a loro fondamentalmente e poi soprattutto, ripeto, le finanze del cardinale erano state intaccate da questo desiderio di essere ricordato dopo morto. Quindi, qui avete la lapide che si vede all'ingresso della cappella. Quindi, gli eredi Contarelli a un certo momento abbandonano i lavori. Subentra una linea laterale, quella dei Crescenzi. I Crescenzi chiamano il Cavalier d'Arpino, che è un pittore tardo manierista e che è, tra l'altro, era stato convivente per qualche tempo di Caravaggio e che è l'autore degli affreschi della cupola che oggi nessuno si fila più. Anche perché il Cavalier d'Arpino ha, e qui ne vedete una scena, ha i tipici colori verde acqua, giallo paglierino, violetto, che sono propri della tarda maniera. Ma anche il Cavalier d'Arpino, a un certo punto, molla. Benché sulla pala d'altare, al posto della pala d'altare, fosse già stata messa una statua. Questa statua di un artista fiammingo, semisconosciuto, che si chiama Cobert. E quindi, nella cappella di cui già vi ho fatto vedere un'immagine, c'erano gli affreschi del Darpino, e il Darpino diceva, ma io voglio essere pagato di più, gli eredi non mi danno soldi, io ho altre committenze. Intanto, questo bravo scultore fa questo gruppo con San Matteo e l'Angelo, perché Matteo Contarelli voleva che la cappella fosse dedicata al suo santo patrono. I lavori sono quindi in uno stato di attesa, senza grandi promesse, quando probabilmente interviene il Cardinal del Monte, che stava proprio di fronte a San Luigi dei Francesi, e che ha presso di sé il famoso Gran Lombardo, cioè Michelangelo Merisi, che per lui ha dipinto quadri da collezione, quindi i famosi musici, quindi il ragazzo morso dal ramarro, e così via. Il Cardinal del Monte, che è un uomo molto potente, e sicuramente coltissimo, ce la fa. Prende gli eredi e dice loro, gli eredi Crescenzi e non più Contarelli, e dice loro, ho l'uomo che fa per voi. Si chiama Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. La statua del Cobert, questa qui, che è una bella statua, ma che mostra un certo compiacimento, perché il Cobert veniva da una formazione orafa, come molti degli scultori del Nord, viene spostata. Viene portata in una chiesa che pochi visitano a Roma, che è Santa Trinità dei Pellegrini. E arriva il nostro Michelangelo Merisi. Adesso io vi faccio vedere in sequenza cronologica, le scene, quindi questa è la vocazione di San Matteo, Levi che è un pubblicano, il Cristo con San Pietro che entra in questo stanzone dei gabellieri, e questa è la chiamata. però non è la prima opera che viene eseguita, quindi io ve la faccio, adesso vi faccio vedere in sequenza cronologica narrativa le opere, ma poi ve le faccio rivedere nella sequenza in cui vengono eseguite. Quindi Levi diventa Matteo, va in giro a predicare il cristianesimo e viene martirizzato nella tela che si trova di fronte alla vocazione. Sull'altare della cappella è invece San Matteo come evangelista. Dopo la sua conversione da uomo delle gabelle, Matteo scrive uno dei più importanti Vangeli, un Vangelo canonico, diciamo così. E queste sono le tre opere. Adesso vediamo. Cominciamo invece dall'opera che Caravaggio avvia per prima. Caravaggio era abituato a fare dei quadri da collezione, quindi con figure piccole. Deve aver avuto un gran batticuore quando nel 1599 gli dicono guarda che devi fare dei quadri grandi per un'opera aperta al pubblico, perché un conto è, qualcuno magari di voi dipinge o fa qualcosa di arte, un conto è dare il proprio quadro a un amico, un conto è esporlo e per di più esporlo in una chiesa. Quindi lui comincia da questo martirio dove vedete questo straordinario carnefice che sta per uccidere, ma ha già punzecchiato come vedremo, il vecchio ormai diventato vecchio Matteo sdraiato a terra. Torna quel discorso sul bene e il male con cui ho cominciato. Qui in realtà non c'è l'idea di un male cinicamente accettato, c'è la visione del male come orrore, tanto che intorno, e lo vedremo, le figure sono piene di orrore. Un ragazzo grida e scappa, altre figure si ritraggono, l'autoritratto di Caravaggio che vi mostrerò fa vedere un volto intristito, incupito per come vanno le cose e poi sul vecchio Matteo scende un angelo con la palma del martirio. Ora lo so che nelle nostre chiese siamo strastufi di martiri, nel senso che è un argomento che credo che tutti diciamo, per carità, questa religione sanguinolenta, però parliamo di un'epoca a ridosso delle guerre di religione e quindi bisognava far capire al pubblico che la vera fede porta fino in fondo. Io non vi dico queste cose come al solito per motivi confessionali, assolutamente no, ma perché voi capiate come si scelga quella scena, si mostri questo incredibile intervento del divino nell'umano e come ci sia questo aggancio per un attimo tra il non visibile, perché un angelo non è visibile, e il visibile che è la violenza. Caravaggio, nonostante l'immagine che vi ho mostrato all'inizio da coatto, come si direbbe, in realtà era un uomo colto, quindi non fatevi prendere troppo, anche se è molto piacevole pensare a tutti questi bei ragazzi col ciuffo corvino sudato sulla fronte, in realtà Caravaggio era uno che passava la sua giornata nei musei, conosceva i musei vaticani, capitolini eccetera, e quindi dovendo fare una figura di giovane, vede sicuramente il torso del belvedere, da anima e carne alle statue e mette protagonista questa grande figura su cui scende la luce. La luce evidentemente è l'argomento su cui tutti hanno parlato quando hanno discettato di Caravaggio, è uno straordinario regista di luci, ma voi pensate anche che è l'epoca in cui il teatro nasce, quindi la luminotecnica, certi piccoli trucchi che oggi sappiamo, l'accensione improvvisa di una lucetta su una fronte, una guancia che improvvisamente si fa visibile in una gora d'ombra. Il teatro deve aver insegnato molto a Caravaggio e nel palazzo del Cardinal del Monte sicuramente si facevano rappresentazioni teatrali. Vi citavo la conoscenza dell'antico perché questa strana figura che vedete, con le palme appoggiate a terra, deriva da una statua di divinità fluviale del mondo classico, così come anche la figura di Quinta vista di spalle. Adesso vi faccio vedere dei dettagli, ma prima vi faccio vedere, visto che la mostra di Palazzo Reale è dedicata alla tecnica di Caravaggio, perché questa mostra nuova si butta un po' dietro le spalle, non credo per vigliaccheria, ma forse semplicemente per tenere un registro più mediano, si butta dietro le spalle le polemiche, Guttuso, Testori, eccetera, e punta sulla tecnica. Dice Caravaggio ha ottenuto questi effetti di grandissimo consenso grazie alla tecnica. Quindi Rossella Vodret, che è la curatrice della mostra di Palazzo Reale, fa parte di un progetto per cui tutte le opere di Caravaggio sono state analizzate, indagate. Questa di Roma, quindi il martirio di San Matteo di Roma, è particolarmente interessante, come vedete, perché all'inizio Caravaggio aveva dipinto delle figure piccole, poi si rende conto che una superficie di oltre 3 metri per 3 metri non si può riempire con tante figurette danzanti come quelle di certi quadri del tardo manierismo e fa una scelta coraggiosa, che è quella della monumentalità delle figure. Quindi questo è molto interessante perché tutte queste figurette qui, lo vedete, sono sparite sostanzialmente e sono state sostituite dalle grandi figure che vediamo ora. Qui avete un dettaglio appunto di questo straordinario bravaccio e vedete questo incontro di mani. Se come mi hanno detto tanti pittori nella mia vicenda biografica, il vero artista si giudica dalle mani e io quando lo sentivo le prime volte dicevo uffa che stufita con questa storia delle mani, adesso man mano invecchiando ho capito che un po' di verità c'è. Le mani indubbiamente sono un elemento difficile da dipingere e soprattutto dare espressione alle mani e Caravaggio fa delle mani effettivamente meravigliose. Qui vedete la mano che impone e la mano che cerca debolmente di difendersi, vedete la giovinezza e vedete la vecchiaia, vedete la violenza e vedete la debolezza, ma soprattutto direi la fede. e vedete intanto la mano dell'angelo che porta la palma del martirio e l'apparizione della croce dietro. Le luci sono straordinarie perché appunto non è un unico punto di luce, le luci si accendono e si spengono in modo da accentuare l'elemento dinamico del dipinto, poi avrò occasione di farvi vedere dei confronti così capirete, anche se tutti l'abbiamo cironza in testa che Caravaggio è la luce, ma forse vederlo fa sempre bene. Bocche aperte. Già il grande Longhi lo aveva intuito, il giovanissimo Michelangelo Merisi deve aver bigiato le sedute di pittura presso il Peterzano per andarsi a vedere il Cenacolo e per capire come le facce cambiano quando sono travolte dalle passioni. E questi studi fisionomici derivati da Leonardo si vedono in tutta la produzione caravaggesca, uno degli elementi nuovi è appunto l'apertura della bocca, il grido. Il grido di violenza come in questo caso, ma vedrete anche il grido di paura. Qui vedete tra l'altro uno straordinario raccursi, cioè non la prospettiva tradizionale che mette i corpi appunto in prospettiva, ma questi corpi è come se fossero schiacciati tra il fondo e noi, con una specie di compressione delle figure contro la tela e questo naturalmente accende la nostra emozione. Ma ricordatevi quello che vi dicevo, le immagini devono prima di tutto coinvolgere, esattamente come una predica, esattamente come un discorso, esattamente come la musica. coinvolgere il nostro logos, perché non si parla solo di cuore, ma anche il nostro mondo affettivo. Qui un dettaglio, Caravaggio ha portato il sangue nella pittura, c'era naturalmente anche in grandissimi come penso a Grunewald, che restano però isolati nell'arte tra XV e XVI secolo. Caravaggio rappresenterà spesso il sangue per sottolineare la corporeità, la fisicità, perché ripeto la Roma del 600 deve controbattere un calvino che dice prima di tutto c'è una chiesa spoglia e c'è l'abbandonarsi a Dio senza bisogno dei sensi. I cattolici sono, lo ripeto, nella visione dell'ortodossia calvinista, dei, come posso dire, degli zulu appunto, dei primitivi, perché hanno bisogno di toccare, perché hanno bisogno di vedere, perché hanno bisogno di annusare, perché hanno bisogno di queste cerimonie meravigliose, iper sensoriali che sono le nostre messe. E proprio per sottolineare la dimensione cattolica, Caravaggio ulteriormente notifica, fa capire che questi sono corpi, e per dire che sono corpi fa vedere piedi, mani e sangue. E li fa gridare, come vedremo. Qui il sangue è poco, viene fuori, lo vedete, da una ferita invisibile, ma si può osservare. E questo, derivato anche qui, probabilmente dalla conoscenza di una statua ellenistica, il ragazzo, che evidentemente rappresenta l'adolescenza, quindi il momento della ingenuità in qualche modo, grida. E vi dicevo, ci sono tante bocche aperte in Caravaggio, quasi ad anticipare anche qui la modernità, perché non è un caso che l'urlo di Munch sia diventato un'icona del nostro tempo, se il nostro tempo è veramente l'età dell'ansia, come si dice, vuol dire che in qualche modo questo urlo di Caravaggio continua sotterraneamente ad arrivare fino a noi. L'urlo è l'urlo di ribellione contro il male, ma dicevamo un male non quietamente assorbito, un male che si verifica come male, che si capisce come male.